In mezzo book bang, in mezzo. Questi sono le bucadini alla griscia, non si vede niente, devo stare così per vedere se un po' di pasta e un po' di cose, ma pure che non mi vedete guardate da mangiare. Certo come mangiamo lo sciapo, ma questo è giusto, non è salato, ma per me è salato. A pezzi merito poco. La griscia è buona, questo non è un book bang perché i book bang sono tanto a mangiare, io non ne mangio tanto. Solo un piatto di pasta con la griscia e una grigliata mista alla fine, con le patate che hai al forno. A me non mi pare, non ho più il trucco di quelli del secondo. Questi sono quelli che fanno loro. Questi sono fatti a mano. Se li amano tutte le sopra queste. Perché dopo vuoi? Vediamo quanto ci metto a finire, eh. Uè, terrone, terrone. Dopo semmai faccio pure il secondo. La grigliata mista. La grigliata mista è buona. Sono buone, vero come? Vuoi poter via a mezza forse? Sono la bellezza di... Un po' più di un anno che non mangio carne. Sempre verdura, verdura. Oggi ho deciso che voglio mangiare carne. Me ne frego di tutto, di tutte le cose. Su animalisti, no? Quello non si può mangiare. Oggi bagno perché... Sono da ristorante apposta. Ammazza, ma però cucinano... Cucinano bene, però. A me parece già. No. Cucinano bene, però, eh. Eh, beh. Ci arriviamo trent'anni fa. Già cucinano bene. C'è questa arguanciale, ma arguanciale non mi piace. Infatti ce lo volevo. Attenta alla maglietta. Mi sto a macchia tutta la maglietta di... di olio. Non so se vi piace questa tipologia di video del cacca. No, no, devo lavare io, però. Allontanata... Allontanata... Allontanata del telefonino. Non si vede il piatto. Se questa faccia del merda. è buona. È buona. È buona. È buona. Ci sto mettendo tanto a finirla perché... se sta il guanciale, non lo so, che lo devo... lo devo togliere, capito? Questa ci hanno messo a pezzetti, no? Ci l'hanno messa a pezzetti. Quasi finita. Ecco, ho fatto il bel casino, ho fatto casca tutto l'olio sopra... La tovaglia. Questo come ho un titolo? Puckberg o... Magnata di grigia? Non lo so. Si, perché non tira vento, non tira... Oh no. È proprio buona. Oh, io ho avvio questa pancetta, stichia. Mettino che sta purita. Vediamo che la pasta è finita. E il guanciale. E il guanciale. Eh, lo so, lo so questo. Eh, lo so. Alpettino. In pasta la grigia quasi finita. Ha proprio un buon sto video, eh? Se volete vedere, lo vedete, sennò... ...i cazzi... ...li vedete in perso, il persettino... dopo cinquant'anni per il viorgonio io sai perché non lo prendo? ho mangiato tutta manca solo il guanciale ora vediamo se faccio pure il secondo questo mucchi e beng per modo di dire perché è roba da mangiare poco pesante un sacco di roba, un piattino di grigia buonissima ciao fratelli, ciao sore, mi raccomando mangiate